La Cassazione individua gli elementi rilevanti per il classamento dell'immobile e per la determinazione della rendita catastale. In particolare, per giungere a tale determinazione, è necessario effettuare un'adeguata disamina della realtà di fatto, analizzando elementi come il tessuto urbano di inserimento, il piano di ubicazione ed i servizi strutturati in godimento, lo stato di conservazione dell'unità specifica e del fabbricato di cui fa parte, elementi tutti singolarmente nel loro insieme, rilevanti nell'iter sotteso al classamento ed alla determinazione della rendita.